Dal prossimo 27 dicembre il Teatro dei Piccoli nella Mostra d'Oltremare torna ad essere la casa del teatro, della musica e del cinema per ragazzi. Una struttura da 500 posti, nata negli anni 40, distrutta e ricostruita dopo la guerra. Oggi, al termine di un intervento di recupero avviato nel 2010, la sala riapre al pubblico arricchita dalle opere e le sculture realizzate da Riccardo Dalisi. Quest'anno, che è stato un anno importante per il teatro a Napoli, si conclude nel modo migliore, forse con il dono più prezioso, cioè quello di riprendere pienamente l'attività del Teatro dei Piccoli, che è un'istituzione straordinaria, un teatro che è un vero e proprio gioiello. Sei giorni di festa, tra Natale e Capodanno, inaugureranno nel migliore dei modi la prima stagione teatrale di un'iniziativa promossa dal Comune di Napoli e dalla Mostra d'Oltremare, che diventa finalmente stabile. Il Teatro dei Piccoli riparte con un articolato progetto artistico ideato e realizzato da quattro imprese napoletane, Le Nuvole, i Teatrini, Progetto Sonora e Cineteatro La Perla, che vantano un'esperienza ventennale in attività di produzione e promozione culturale per spettatori dai tre anni in su. Noi facciamo un grosso investimento per metterlo in funzione e soprattutto pensiamo a quella che è l'attività. Quello spazio non deve restare più chiuso perché è restato chiuso per 76 anni, cioè praticamente da quando lo hanno costruito, quel teatro ha avuto solo aperture spot, non ha mai avuto una programmazione fissa e quindi quelle poltroncine gridano vendetta. Il tema di quest'anno, che è l'anno zero del Teatro dei Piccoli, è quello del lavoro sullo spettatore, che è la cosa che è mancata al Teatro dei Piccoli. Noi abbiamo uno slogan con cui apriamo la stagione che dice è grande essere piccoli, il lavoro che noi facciamo è sullo spettatore. Da gennaio a maggio sono previsti 150 giorni di programmazione che proporranno oltre 25 titoli di spettacoli teatrali, musicali e cinematografici rivolti alle famiglie e ai ragazzi, ai quali si aggiungeranno progetti speciali e attività di formazione e laboratorio. Io penso che il Teatro dei Piccoli sia una delle più importanti istituzioni culturali di Napoli, e quindi è un dono prezioso e possiamo dire anche con questo dono un buon anno ai piccoli di Napoli.